Un nuovo impegno concreto nel segno dell'ambiente nel ricordo di Umberto Chiarini con pianta anima verde di Fossa Caprara. Sono stati infatti consegnati i premi per gli istituti scolastici che nelle province di Cremona Mantua, Parma e Reggio Emilia hanno deciso di partecipare al bando Chiarini promosso dall'associazione Persona Ambiente e ormai è divenuto un must a cavallo del fiume Po. A ospitare la consegna dei premi itinerante come già in passato è stata nel 2024 la biblioteca archivio Emilio Sereni di Gattatico, provincia di Reggio Emilia. È stata anche la prima edizione del bando dopo il covid. Durante l'incontro sono stati presentati i progetti vincitori delle passate edizioni a cura del liceo Livi di Parma, dell'istituto Marconi di Casalmaggiore, del liceo scientifico San Felice di Viadana e dell'istituto Polo Romani di Casalmaggiore. Le scuole vincitrici di quest'anno sono state per un premio complessivo di 3.500 euro suddiviso tra i vari vincitori, l'istituto comprensivo Diotti di Vico Bellignano, scuola elementare, il liceo scientifico Livi di Parma, la scuola dell'infanzia comunale Rodari di Scandiano e la scuola dell'infanzia Nasi in su di Casaloldo. Come si nota, Casalmaggiore, come centro, come frazioni, continua a far la parte del leone perché qui il pensiero di Umberto è ancora vivo e sentito. Durante la giornata, peraltro, i presenti hanno potuto partecipare alla visita guidata al museo di Casa Cervi, a cura della sezione didattica dell'istituto. Al solito, anime dell'iniziativa, sono stati Mauro Ferrari e Damiano Chiarini, figlio di Umberto dell'Associazione Persona Ambiente, mentre in questa edizione, confermando così l'importanza e il prestigio di questo bando, non è mancato il Mabunesco Pogrande presente nei saluti iniziali.